Da questa mattina tutti in classe. Solo nella provincia di Bologna sono tornati sui banchi di scuola quasi 70.000 studenti di cui oltre 26.000 nella scuola elementare, 17.000 nella media e 25.400 nella media superiore. E proprio in questa fascia la maggioranza della schiera dei nuovi iscritti ha optato per gli indirizzi tecnici commerciali e per i licei scientifici. Ma sentiamo da loro, dai diretti interessati, come è andato questo primo giorno di scuola. Siamo al liceo Copernico di Bologna e la campanella ha appena decretato la fine delle lezioni. Ma bene, è andato bene. Niente di speciale perché insomma il ritorno... Torribile. Che cosa è successo? No, è brutto rivedere i prof e tutto. Malissimo. Meglio di così. Perché? Abbiamo avuto le quattro mattole, tre materie più pesanti subito il primo giorno. L'anno scolastico si è aperto all'insegna di tanti e novità. Novità che riguardano gli insegnanti, questo problema della corsa, il pretensionamento, ma che riguardano anche la riforma scolastica, l'abolizione degli esami di riparazione. Personalmente dico se ci verrà lasciata autonomia di organizzazione, soprattutto dal punto di vista metodologico, oltre che dei tempi, penso che possono essere una buona soluzione del problema. Grazie a tutti.